buonasera benvenuti a un nuovo incontro di metafisica questa sera abbiamo un incontro molto speciale che dedichiamo all'amato maestro saint germain perché il primo maggio è una giornata una data molto speciale per tutti gli studenti di metafisica del mondo tutti gli studenti di metafisica infatti oggi celebrano un anniversario molto importante il primo maggio è l'anniversario dell'incoronazione del maestro saint germain come avatar della nuova era dell'acquario la nuova età dorata in cui noi viviamo da alcuni decenni allora questa sera anche noi come tutti gli studenti di metafisica dedichiamo del tempo a celebrare questo avvenimento questa ricorrenza a parlare del maestro quindi lo conosceremo meglio faremo alcune pratiche che lui ci ha insegnato e faremo anche una bellissima meditazione per entrare in contatto con la sua energia per chi non mi conosce mi presento io sono laura alberici e sono una facilitatrice di metafisica che cos'è la metafisica la metafisica è una disciplina che raccoglie tutti gli insegnamenti che ci sono stati donati dai maestri escesi per la nostra evoluzione spirituale quindi tutti gli insegnamenti spirituali che nel corso dei secoli i vari maestri ci hanno donato perché i maestri sono tantissimi e ci hanno donato tantissime conoscenze per permetterci di accelerare la nostra evoluzione spirituale ci troviamo in un momento molto particolare siamo all'inizio dicevamo della nuova era dell'acquario quando c'è un cambiamento di era quando si entra in una nuova era e quindi c'è la nuova dispensazione come si dice cioè inizia a essere emanata la nuova energia di quella era ci sono anche dei nuovi insegnamenti che arrivano che vanno ad aggiungersi ai precedenti insegnamenti che sono già stati donati all'umanità siamo pronti adesso per fare un nuovo passo evolutivo per questo ci vengono donati dei nuovi insegnamenti e chi sono i maestri escesi i maestri escesi sono un'umanità molto evoluta un'umanità che ha già fatto il nostro percorso qua sulla terra come umani quindi hanno già attraversato tutte le difficoltà che noi adesso stiamo vivendo e hanno già completato questo percorso evolutivo raggiungendo che cosa raggiungendo l'ascensione cioè sono diventati maestri ascesi maestri della vita sono riusciti a raggiungere la maestria su tutti gli aspetti della vita su tutte le virtù divine e hanno raggiunto l'ascensione cioè sono ascesi alla propria divina presenza la propria divinità quando sentite tanto parlare di ascensione in questo periodo a cosa facciamo riferimento proprio a questo processo che tutti noi stiamo seguendo il processo per raggiungere l'ascensione cioè riuscire a ritornare a ricongiungerci con la nostra divinità perché tutti nel corso dei millenni dalla caduta dell'umanità in poi abbiamo perso questo contatto con la nostra parte divina non sappiamo nemmeno più di averlo e adesso abbiamo invece l'opportunità di riunirci alla nostra parte divina grazie ai tanti insegnamenti che ci vengono dati allora dicevo i maestri ascesi sono tantissimi non c'è solo il maestro saint germain ma ci sono anche per esempio il maestro gesù madre maria confucio gautama buddha per citarne solo alcuni magari di quelli più conosciuti nella nostra cultura ma sono veramente tanti allora questa sera conosceremo meglio il maestro asceso saint germain che dicevamo è l'avatar di questa nuova era dell'acquario e quindi capiremo che cosa significa che è l'avatar e cosa è successo nella sua incronazione e andremo a capire quali insegnamenti spirituali ci sta portando e ci ha già donato allora per prima cosa ora ci armonizziamo come di consueto e poi entriamo nel nostro nella nostra attività della serata qui andando a parlare del maestro saint germain andremo a conoscerlo meglio quindi anche chi di voi ancora non lo conosce questa sera avrà tante informazioni molto interessanti per iniziare a entrare in contatto con l'energia di questo maestro allora ci mettiamo in una posizione comoda con la schiena dritta le gambe le braccia scrociate chiudiamo gli occhi e iniziamo a fare dei respiri lunghi e profondi per portare armonia a tutti i nostri corpi inferiori ci armonizziamo così come c'è stato insegnato dal maestro saint germain lasciamo andare ogni tensione il nostro corpo dolcemente si rilassa e le nostre emozioni si calmano lasciamo andare tutto lo stress le preoccupazioni le paure le lasciamo andare e facciamo spazio dentro di noi per una sensazione di pace di armonia di tranquillità e anche la nostra mente ora si svuota se arriva un pensiero lo soffiamo via e riportiamo la nostra attenzione al nostro respiro inspiro espiro ora portiamo tutta l'attenzione al nostro cuore e lo immaginiamo come un piccolo sole visualizziamo i suoi raggi dorati nel nostro petto e sentiamo il suo calore colleghiamoci con il battito del nostro cuore che è il battito della vita che scorre in noi ora visualizziamo sopra al nostro cuore dentro al sole interiore la fiamma azzurra della buona volontà di dio poi di fianco alla fiamma azzurra visualizziamo la fiamma dorata della saggezza divina e di fianco alla fiamma dorata visualizziamo la fiamma rosa dell'amore divino contempliamo la nostra triplice fiamma cristica riconosciamo il nostro amato essere cristico in noi lo benediciamo e gli chiediamo di assumere il comando della nostra vita della nostra personalità e di questo incontro e invochiamo ora la nostra amata divina presenza io sono le chiediamo di inviarci luce luce e più luce e le chiediamo di avvolgerci ora con il mantello di luce di protezione visualizziamo che dall'alto discende su di noi un grande mantello di luce bianco con una radiazione azzurra che avvolge il nostro corpo e la nostra aura e avvolti da questo grande mantello di luce chiediamo che ci renda invisibili e invincibili ad ogni creazione inferiore alla perfezione di dio invochiamo ora il pilastro di fiamma violetta visualizziamo che sotto i nostri piedi si accende un focolare di fiamma violetta che dolcemente si espande si espande fino ad avvolgere tutto il nostro corpo ci visualizziamo avvolti da questa grande fiamma violetta e ora questa fiamma violetta si espande ancora e avvolge tutta la nostra aura per circa tre metri tutto intorno a noi oltre la nostra testa e sotto i nostri piedi e chiediamo alla fiamma violetta di trasmutare consumare dissolvere ogni disarmonia presente nei nostri quattro corpi inferiori invochiamo ora l'arcangelo michele per la nostra protezione arcangelo michele poni la tua croce azzurra di protezione davanti a noi dietro di noi al nostro fianco destro al fianco sinistro sopra di noi e sotto di noi e sigillaci 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 nella tua croce azzurra di protezione affinché siamo protetti da ogni energia inferiore alla perfezione di dio invoco ora l'amato maestro saint germain avatar della nuova era dell'acquario signore re dell'età dorata mi rivolgo a te amato maestro saint germain chiedo la tua amorevole assistenza durante questo incontro guidaci ispiraci cammina in mezzo a noi fa che possiamo entrare in contatto con la tua energia con il tuo insegnamento fa che possiamo lasciare entrare la conoscenza e l'applicazione della fiamma violetta del perdono e di tutti i tuoi insegnamenti sulla nostra divinità dentro di noi che possiamo portarli nella nostra vita e attraverso il nostro esempio portarli alla vita di tutti i nostri cari e di tutta l'umanità ci offriamo questa sera come un calice per accogliere il tuo momentum accumulato di energia chiediamo che tu riempia il nostro calice fino a farlo traboccare e che questa energia possa raggiungere tutte le persone intorno a noi per la creazione della nuova età dorata della liberazione spirituale ora ci immaginiamo tutti seduti in un grande cerchio ognuno con la propria luce nel cuore e al centro di questo grande cerchio visualizziamo un grande calice dorato alto almeno un paio di metri e chiediamo all'amato maestro saint germain e tutti gli esseri che prestano servizio nella nel settimo raggio di raggio della trasmutazione del perdono della liberazione e del cerimoniale di ricolmare con questa energia il nostro calice e ora potete mantenere gli occhi chiusi mentre faccio l'accensione delle fiamme tutta la lode a te onnipotente e onnipresente luce dell'universo fonte suprema di tutta la vita io sono noi ci inginocchiamo dentro i nostri cuori nel riconoscere la luce del cosmo mentre attiriamo queste fiamme che rappresentano la triplice attività della vita esempio che ci è dato dalla santissima trinità il padre con la fiamma azzurra il figlio con la fiamma dorata e lo spirito santo o madre con la fiamma rosa ora dolcemente ritorniamo tutti qua apriamo gli occhi facciamo un bel respiro ritorniamo qui e ora e ci prepariamo a proseguire insieme l'invocazione che facciamo a voce alta tutti insieme come un'unica voce seguendo il mio ritmo un bel respiro e insieme diciamo amata presenza io sono cosmica vieni ora e assumi la tua autorità nei quattro veicoli di tutti i tuoi figli e mostraci come esprimere con umiltà e reverenza la perfettamente equilibrata attività dell'amore della saggezza e del potere che tu sei oh suprema luce ti riconosciamo in tutta la vita e ringraziamo i gloriosi esseri cosmici e ascesi mentre li invochiamo insieme alla grande schiera angelica affinché amplifichino l'energia che scaricheremo in questa riunione e affinché tutta questa luce si espanda si espanda si espanda mentre viaggia per l'universo sempre espandendo le frontiere del tuo regno nel compimento della tua volontà io sono un bel respiro bene e ora possiamo iniziare la celebrazione dell'anniversario del maestro saint germain che abbiamo detto è proprio il primo di maggio quindi ogni anno il primo maggio ricordiamo questo anniversario e l'anno di riferimento a cui quindi l'anno che noi ricordiamo oggi è il 1954 quindi il primo maggio del 1954 il maestro saint germain è stato incoronato come avatar e re dell'era dell'acquario tra poco parleremo un po di com'è avvenuta questa questa incoronazione ma chi è saint germain chi è questo questo maestro magari per molti di voi è nuovo quindi non lo conoscete e siete curiosi di capire chi sia da dove arrivi allora abbiamo già detto che saint germain è un maestro asceso quindi quando diciamo che san germain è un maestro asceso di cosa stiamo parlando cosa abbiamo detto abbiamo detto che i maestri ascesi sono questa umanità evoluta quindi sono degli umani che hanno già fatto il percorso nostro di evoluzione e hanno raggiunto l'ascensione i maestri diventano maestri della vita quindi raggiungono la maestria su ogni aspetto della vita quindi superano tutte le prove quelle prove che anche noi le prove evolutive che anche noi stiamo vivendo per man mano superare le varie iniziazioni che ci porteranno un giorno all'ascensione poi ogni maestro dopo aver raggiunto questa maestria può decidere se diciamo uscire definitivamente dal nostro percorso umano e quindi entrare in un'altra dimensione la dimensione dei maestri ascesi la quinta dimensione oppure se restare nel regno umano ad aiutare gli umani che ancora non hanno raggiunto l'ascensione quindi il maestro san germain è uno dei maestri che ha deciso di essere un maestro missionario quindi di rimanere qua insieme a noi per aiutarci e sappiamo che il maestro san germain è arrivato qua sulla terra da pensate da urano quindi arriva da un altro pianeta ed è venuto come spirito guardiano quando le prime correnti di vita umane sono venute a incarnarsi qua sulla terra quindi veramente lui è qua da sempre e ha fatto il suo percorso umano insieme a noi fino poi a raggiungere l'ascensione quindi come maestro asceso conoscendo già il percorso avendolo già fatto che cosa fa come tutti i maestri ascesi ci aiuta quindi i maestri ascesi sono come dei fratelli maggiori che aiutano noi che siamo i fratelli minori ad andare avanti nel percorso provate immaginare chi di voi ha fratelli più piccoli sorelle più piccole si ricorderà che quando avete visto i vostri fratelli e sorelle arrivare alle stesse problematiche che voi avevate già affrontato il risolto ovviamente siete corsi ad aiutarli a cercare di dare la già la giusta soluzione in modo che potessero più velocemente andare avanti rispetto a quanto voi avevate fatto ecco questo è quello che fanno i maestri ascesi quindi ci amano tantissimo e ci stanno vicino ci continuano a portare insegnamento anche se noi umani abbiamo fatto insomma tante tante cose sbagliate quindi noi abbiamo creato tutti questi problemi che vediamo intorno a noi perché abbiamo utilizzato male l'energia divina abbiamo utilizzato in modo distruttivo l'energia divina quindi adesso ci troviamo in tempi un po particolari perché avremmo già dovuto tutti raggiungere l'ascensione ma non siamo riusciti a raggiungerla perché abbiamo appunto utilizzato in modo troppo distruttivo l'energia divina e quindi adesso siamo abbiamo creato questo mondo dove vedete dove sotto gli occhi di tutti insomma è visibile il male che imperversano un po dappertutto e il maestro san germain ci dice proprio che in questo momento intorno alla terra c'è un grandissimo effluvio di energia negativa come se fosse un pesante fumo nero che avvolge tutto ed è tutto il karma negativo che noi abbiamo creato e che quindi adesso noi abbiamo tutto intorno ed è un karma talmente pesante che abbiamo perso la strada non riusciamo nemmeno più a renderci conto di come creiamo questo karma quindi in questo momento il maestro ci sta aiutando proprio a superare questo periodo molto particolare questi tempi finali che stiamo vivendo perché sono tempi finali perché c'è questo passaggio alla nuova era che ormai non come dire si deve fare e non c'è più tempo da perdere il pianeta terra è una scuola quindi noi siamo esseri divini scintille divini che si sono separate dalla dalla divinità dal grande dio creatore quando usiamo la parola dio intendiamo la grande energia creatrice il grande creatore dio padre madre quindi possiamo possiamo chiamarlo dio possiamo chiamarlo divina presenza possiamo chiamarlo prana è l'energia di amore di luce che ha creato tutto e che è la sostanza di tutto noi ci siamo staccati come esseri quindi scintille divine siamo entrati a fare questa esperienza umana siamo entrati in un corpo quindi il nostro corpo è un contenitore che ci permette un'esperienza come un abito che indossiamo nelle varie incarnazioni che ci permette di fare questa esperienza miliardi di anime evolvono qua sulla terra insieme a noi e siamo qua a imparare che cosa a imparare a sviluppare le virtù divine quando parliamo di virtù divino intendiamo gli aspetti di dio gli aspetti dell'amore di dio e siamo qua per manifestare queste virtù divine nel mondo materiale nella materia quindi portare dallo spirito tutte le virtù divine alla materia questo siamo venuti a fare e in questa scuola abbiamo dei bravissimi insegnanti che ci aiutano che sono proprio i maestri ascesi quindi maestre ascesi sono come gli insegnanti nella scuola della terra coloro che hanno la conoscenza che hanno già compiuto tutti gli studi e ora ci trasmettono queste conoscenze quando parliamo di nuova era per comprendere cosa significa nuova era dell'acquario dobbiamo focalizzarci un attimo su quelle che sono le ere astronomiche quindi un piccolo focus sulle ere astronomiche perché la terra nella questa scuola della terra attraversa dei periodi di apprendimento quindi siamo qua a fare proprio un percorso attraverso delle ere in ogni era astronomica noi andiamo a lavorare sviluppare un determinato set di virtù divine quindi le erastronomiche sono proprio dei periodi di apprendimento e le erastronomiche sono quelle che conosciamo tutti legate ai allo zodiaco quindi al movimento della terra nel suo spostarsi all'interno dello zodiaco allora il 1954 è stato un anno molto molto importante per noi proprio in relazione questo passaggio da un'era astronomica ad un'altra perché c'è stato il passaggio dall'era dei pesci all'era dell'acquario un passaggio proprio energetico un passaggio che è stato deciso da tutta la fratellanza bianca di shambhala che appunto l'insieme di tutti i maestri scesi e esseri di grande evoluzione che si occupano dell'evoluzione spirituale della terra e dell'umanità allora i maestri in un momento ormai di di fine dei tempi in cui l'umanità sembrava aver perso ogni chance di raggiungere l'ascensione e di ascendere insieme alla terra hanno deciso di anticipare di alcuni decenni l'inizio della nuova era dell'acquario perché l'era dell'acquario avrebbe dovuto iniziare più o meno intorno al 2012 per questo si parlava tanto di questa data ma i maestri hanno deciso di anticiparlo al 1954 in modo da anticipare la radiazione della nuova energia darci molto molto più insegnamento quindi dispensarci molte conoscenze in modo da dare la possibilità più persone possibile di ascendere insieme alla terra quindi siamo veramente dei tempi finali in cui non si può più aspettare non si può più perdere tempo non si può più non si può più sprecare il proprio tempo in cose non importanti è il momento per noi di risvegliarci di capire che la nostra nostro percorso spirituale è ciò che conta la nostra evoluzione allora nel 1954 maestro decidono di fare energeticamente questo passaggio e sappiamo che ogni era dura circa 2100 anni quando c'è il cambio di era quindi in questo caso siamo entrati nell'era dell'acquario cosa succede che entra il nuovo avatar che prende il posto dell'avatar precedente avatar significa discesa divina cioè qualcuno che è un maestro che incarna l'energia della nuova era colui che si prende il compito di irradiare la terra con la nuova energia e portare l'insegnamento della nuova era quindi in ogni era che cosa succede che c'è un raggio divino che viene emanato principalmente sulla terra dal centro della galassia dal grande sole centrale la l'energia divina si suddivide in sette raggi sette frequenze della luce ogni frequenza della luce corrisponde ad alcune virtù divine nel momento in cui siamo entrati nell'era dell'acquario dal grande sole centrale ha iniziato ad essere emanato qua sulla terra il settimo raggio che è il raggio color violetto appunto il raggio che contraddistingue questa nuova era dell'acquario e che corrisponde ad alcune virtù divine in questa nuova era noi siamo chiamati a raggiungere a manifestare nella nostra vita la libertà spirituale cosa significa libertà spirituale libertà spirituale è un concetto che va oltre la libertà fisica non è un caso che noi in questo momento tutti noi ci stiamo improvvisamente rendendo conto di tutta una serie di prigionie di cui prima non eravamo consapevoli sono prigionie non fisiche ma prigionie mentali quindi ci troviamo prigionieri di una serie di credenze di ideologie di preconcetti credenze sbagliate programmazioni mentali e iniziamo a rendercene conto perché perché è iniziata l'emanazione della del raggio violetto che porta con sé il compito di andare a manifestare la liberazione spirituale cioè liberarsi da tutte le catene liberarsi dalle catene non solo fisiche ma soprattutto dalle catene emozionali le catene mentali quelle catene che noi abbiamo dentro di noi che ci impediscono di manifestare tutto il nostro potenziale di manifestare il nostro potere divino il nostro potere spirituale come possiamo fare per raggiungere questa liberazione spirituale abbiamo a disposizione gli altri aspetti del raggio violetto soprattutto il perdono e la misericordia il perdono verso che cosa il perdono verso noi stessi e gli altri per il cattivo utilizzo dell'energia divina che abbiamo fatto negli scorsi secoli millenni per tutti i nostri errori per aver infranto la legge dell'amore secondo la quale eravamo stati concepiti allora abbiamo la possibilità adesso di perdonare perché perdonare significa lasciare andare e sganciarsi tagliare quella corda quella quella catena e la fiamma violetta un grande potere il potere di trasmutare trasmutare cosa significa significa applicare un'alchimia l'alchimia spirituale cioè andare a trasformare il piombo in oro andare a prendere tutte le nostre emozioni negative i nostri pensieri negativi che sono il piombo che ci tiene giù che non ci permette di evolvere e andare a trasformarle in energia positiva in modo da procedere velocemente verso la nostra meta verso l'ascensione allora in questo momento abbiamo una grande dispensazione un dono una grazia che ci è stata fatta possiamo usare questa fiamma violetta per trasmutare il nostro karma e raggiungere così velocemente la libertà spirituale pensiamo in un momento vedete molto importante e man mano che diventiamo consapevoli di questi aspetti capiamo molto meglio il mondo in cui ci ci troviamo adesso e anche i pensieri che 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 sorgono in noi le nostre emozioni capiamo meglio perché reagiamo in un certo modo alle situazioni allora adesso stiamo entrando in questa era dall'acquario da qual era proveniamo proveniamo dall'era dei pesci l'era dell'amato maestro gesù il maestro gesù è un maestro asceso che ha retto l'era dei pesci per duemila anni quindi che è stato l'avatar di quella era ha portato il suo insegnamento l'insegnamento del raggio oro rubino che vedete è un raggio di colore arancione che ha portato con la dispensazione del maestro gesù i suoi aspetti della devozione del misticismo della pace questo è il raggio anche dell'abbondanza sono tutte cose su cui abbiamo lavorato nel periodo nei duemila anni eh del del maestro gesù ovviamente alcuni sono riusciti a sviluppare in modo positivo le virtù di questo raggio altri invece le hanno sviluppate in modo negativo perché hanno lavorato più con l'ego con la propria parte spirituale ma il maestro gesù ci ha dato degli insegnamenti fondamentali che oggi sono la base dei nostri incontri di metafisica quindi il maestro saint germain semplicemente va ad aggiungere un insegnamento ma per noi rimane fondamentale l'insegnamento del maestro gesù quindi dal 1954 ha iniziato le mana la radiazione l'emanazione della fiamma violetta dell'insegnamento della nuova era che è andato a andare ad aggiungersi all'insegnamento del maestro gesù quindi dal raggio oro rubino dell'età dei pesci siamo passati all'età dell'acquario della fiamma violetta del maestro saint germain c'è stato proprio un avvicendamento un come un passaggio di consegne quindi il maestro gesù ha passato le consegne al maestro saint germain non c'è opposizione di nessun tipo c'è semplicemente un trasmette passarsi il appunto il testimone di avatar dell'era della nuova era allora abbiamo detto questo anniversario come si è svolto come cioè come come si è svolta scusatemi la celebrazione perché adesso stiamo stiamo facendo la celebrazione di questo anniversario abbiamo detto che il primo maggio del 54 è stato incoronato il maestro saint germain come avatar e re dell'era dell'acquario lo vedete qua in questa in questo disegno dove lui rappresentato proprio nella sua veste di avatar e re dell'acquario e questa incoronazione è avvenuta a shamballa shamballa è la città eterica attualmente è eterica non è più fisica più importante per la nostra per la nostra terra perché shamballa è proprio il punto in cui si riuniscono i reggenti della nostra terra perché la nostra terra è retta a livello spirituale da una fratellanza bianca che possiamo chiamare anche gerarchia spirituale con in cui ci sono appunto tutta una serie di ruoli ben definiti che vanno a gestire l'emanazione dell'energia degli insegnamenti qua sulla terra per l'umanità allora shamballa c'è questo tempio meraviglioso con la treplice fiamma della terra e in quel giorno c'è stato una un evento veramente degno di di nota perché cosa succede quando c'è l'incoronazione di un nuovo avatar succede che arrivano tutti a partecipare tutta la gerarchia spirituale tutta la fratellanza bianca e non solo erano presenti tutti i regni i regni di evoluzione della nostra terra quindi il regno umano il regno angelico e regno elementale e sicuramente eravamo presenti tutti noi perché perché a questo evento hanno partecipato le anime quindi i cristi gli esseri cristici di tutte le le persone che hanno deciso di lavorare insieme al maestro saint germain per la nuova età dorata quindi di aiutare il maestro a portare la nuova energia nel mondo allora se siamo noi qua adesso a parlare del maestro è perché sicuramente eravamo presenti la nostra anima era lì assistito a questo bellissimo evento bellissimo evento che è stato preseduto dall'allora reggente della terra che era il grande maestro sanat kumara sanat kumara ancora si si occupa della terra ma non è più reggente adesso reggente è lord gautama buddha sanat kumara è un essere di grandissima evoluzione spirituale brevemente diciamo che un essere che arriva da venere che è venuto tantissimo tempo fa qua sulla terra ed è lui che ha creato shambhala quindi lui che ha creato shambhala che ha creato la fratellanza bianca di shambhala in un momento in cui sulla terra avevamo perso la rotta quindi stavamo distruggendo tutto ci stavamo auto distruggendo con umanità lui è venuto a portare il la nuova energia a portare la triplice fiamma sulla terra a risvegliare la nostra anima il nostro cristo interiore e sanat kumara quindi è stato colui che in quanto reggente in quel momento della terra ha presieduto a questa incoronazione del maestro san germe quindi sanat kumara è stato colui che ha effettivamente fatto da ha gestito tutto il cerimoniale in questo cerimoniale che cosa è successo che il maestro gesù ha passato la propria corona a san germe quindi immaginatevi questo posto bellissimo questo tempio meraviglioso con milioni di anime ed esseri di luce a partecipare e il maestro gesù che ancora aveva su di sé tutti gli emblemi della 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 regalità del suo essere avatar di quella era passati al maestro san germe che cosa gli ha passato gli ha passato la corona quindi che rappresenta il suo potere come avatar gli ha passato lo scettro di potere la spada e gli è passato il mantello quindi questi quattro sono i simboli della della regalità della dell'essere avatar di una nuova era che vengono passati dal vecchio avatar diciamo dall'avatar uscente al nuovo avatar quindi poi vediamo in questa bellissima immagine il maestro san germe già vestito con tutti questi emblemi della della sua regalità e nel momento in cui lui riceve la corona e riceve tutti questi simboli riceve anche proprio l'energia della nuova era quindi viene investito con questa nuova energia inizia a sentire questa nuova carica e si dice che il maestro san germe appena ricevette questa energia della nuova era sentì talmente tanto l'impulso di iniziare subito a lavorare che si dovette veramente frenare a fatica per restare lì fino alla conclusione della della celebrazione come insomma come da rito ecco quindi era veramente molto molto felice di iniziare a lavorare con la con la nuova era quindi ecco il nostro maestro san germe nella sua veste di avatar appena incoronato quindi oggi ricordiamo questo bellissimo momento che ripetiamo è dentro di noi cioè già nel nostro cuore perché noi abbiamo assistito e in quel momento in cui abbiamo assistito che cosa abbiamo fatto quando abbiamo assistito a questa cerimonia abbiamo fatto le nostre promesse quindi abbiamo promesso al maestro fedeltà fedeltà assoluta abbiamo promesso di assisterlo di essere al suo fianco e di agire nelle nostre incarnazioni facendo del nostro meglio per portare l'insegnamento e l'energia del maestro san germe a tutte le persone intorno a noi quindi quando sentiamo quell'impulso quella desiderio di studiare gli insegnamenti del maestro di applicare quando ci sentiamo attratti dalla fiamma violetta e perché eravamo lì e abbiamo fatto le nostre promesse quindi siamo nel posto giusto siamo qua a condividere questi argomenti perché il nostro cuore la nostra anima che ci spinge a farlo e quando siamo con il maestro san germe ci sentiamo a casa ci sentiamo veramente a casa nostra quindi adesso san germe per noi è l'avatar e re della nuova era dell'acquario che abbiamo detto è l'era della liberazione liberazione attraverso l'attivazione del nostro cristo interiore una volta che ci liberiamo di tutto quel pesante fardello di quel pesante karma che abbiamo creato possiamo finalmente far risplendere la nostra luce interiore cioè la luce del nostro cristo il cristo che c'è già stato insegnato da dal maestro gesù quindi già il maestro ci aveva dato l'insegnamento del cristo interiore ma non è stato compreso adesso siamo nel momento in cui siamo pronti per comprendere appieno l'insegnamento del maestro e metterlo in pratica grazie agli insegnamenti del maestro san germe vedete come gli insegnamenti da un avatar all'altro proseguono san germe neanche il direttore ocho han si dice del settimo raggio c'è del raggio violetto e quindi il raggio violetto che abbiamo detto che è emanato in questa nuova era e quindi san germe nel maestro della libertà del raggio violetto della trasmutazione del perdono che sono tutti aspetti di questa nuova energia della fiamma violetta ricordiamo anche che il maestro san germe è un essere androgino quindi ha già dentro di sé entrambe le polarità maschile femminile ma per portare avanti il suo compito di avatar è affiancato da un complemento divino che è lady porzia che è la dea dell'opportunità e della giustizia che lo affianca nel suo ruolo quindi nelle sue mansioni di avatar dell'era dell'acquario e magari vi state chiedendo ma da dove come ha fatto poi san germe a diventare avatar della nuova era cioè prima che cosa ha fatto quindi la curiosità è assolutamente normale ora vediamo che cosa sappiamo delle sue incarnazioni precedenti perché abbiamo visto che lui è qui dall'inizio è proprio dell'umanità quindi ha fatto tantissime incarnazioni e ha vissuto tantissime incarnazioni quello che sappiamo perché ovviamente non sappiamo tutto è che la sua prima incarnazione nota risale a 70 mila anni fa circa quando fu un grande re di un'antica civiltà che si trovava dove adesso c'è il deserto del sara quindi di cui non è rimasto nulla fu poi il profeta samuele san giuseppe il padre di gesù sant'albano si dice che fu mago merlino proclus il neoplatonico roger beckon e christian rosenkroitz dell'ordine dell'ordine dei rosa croce poi sappiamo che fu cristoforo colombo in realtà non proprio cristoforo colombo nella sua intera vita ma si dice che diciamo abbia si è entrato in cristoforo colombo durante la sua avventura per andare poi a scoprire l'america per solo colombo non ebbe niente a che fare con poi il male che venne dopo la scoperta quindi ricordiamolo fu anche saint germain fu anche il grande alchimista paracelso quindi vedete che era già un alchimista è già già prima fu anche francesco baccone francis beckon si dice che ha scese in questa incarnazione ma decise di rimanere qua sulla terra quindi di non proseguire di non accettare l'ascensione perché voleva restare qui sulla sulla terra ma a quel punto avendo già raggiunto l'ascensione incarnò come il figlio dell'ultimo sovrano di transilvania ferenc secondo rakotsky d'ungheria quindi fu il principe rakotsky che sappiamo venne cresciuto però a palazzo pitti a firenze da giangastone de medici e come principe rakotsky poi essendo appunto stato cresciuto era stato dato in adozione e cresciuto in italia decide di cambiare il proprio nome e sceglie come nome saint germain che significa santo fratello quindi vedete che nel suo nome è racchiuso un grande significato e lui è proprio il nostro fratello che ci aiuta e viene conosciuto con tanti nomi in quel periodo uno è proprio quello di conte di saint germain con cui viene conosciuto nelle corti europee tra il 1710 e 1822 circa e pensate che a quell'epoca il conte di saint germain veniva chiamato l'uomo meraviglia perché aveva delle capacità straordinarie adesso per noi comprensibile perché avesse queste capacità perché era già un maestro asceso pensate che si dice che avesse una memoria incredibile parlava tutte le lingue sapeva scrivere con la mano destra e la sinistra in contemporanea scrivendo due cose diverse conosceva tutta la storia perfettamente nessuno sapeva come aveva immense ricchezze ma nessuno sapeva da dove arrivassero queste ricchezze nessuno lo vedeva mai né bere né mangiare tutti aspetti chiaramente del suo essere maestro asceso per questo veniva chiamato l'uomo meraviglia ovviamente ci sono stati state persone che lo amavano e altre che invece sono state contro di lui per cui è stato scritto un po su state scritte cose di vario tipo ecco ovviamente su di lui dagli amici e dai nemici e pensate che il maestro iniziò a portare l'insegnamento già molto prima dell'inizio ufficiale dell'era dell'acquario perché già nel 1800 lui iniziò a dare degli insegnamenti a madame blavatsky quindi all'interno della teosofia di madame blavatsky troviamo già gli insegnamenti di questo maestro vediamo questa immagine dove si vede madame blavatsky con i maestri kutumi el moria saint germain quindi vedete che aveva già aveva già qui preso il suo ruolo insomma di di colui che dava gli insegnamenti i kutumi scusatemi anche i kutumi c'era e dopo di che nel 1930 inizia la la vera dispensazione per la nuova era dell'acquario dove avviene tutto ciò sul monte shasta che è un punto della terra dove il maestro ha un ancoraggio della sua energia che cosa succede sul monte shasta che su questo monte shasta va a passeggiare guy ballard che era una persona di grandissima evoluzione spirituale che sente dire dalle persone del posto che lì c'erano degli uomini santi si incammina e incontra il maestro saint germain che lo sceglie come la persona a cui dare gli insegnamenti della nuova era quindi fa una specie di esperimento cioè maestro pensa provo a dare a lui questi insegnamenti e vediamo se l'umanità è pronta per riceverli quindi guy ballard riceve gli insegnamenti e principalmente riceve che cosa l'insegnamento sulla divina presenza io sono che vediamo in questa immagine che c'è stata donata attraverso la scuola del ponte liber alla libertà spirituale l'immagine della nostra vera divinità quindi della nostra divina presenza io sono che si ancora dentro di noi nel cristo interiore e da vita al nostro corpo fisico e poi l'altro insegnamento importantissimo è la fiamma violetta di cui abbiamo già accennato che è questa frequenza della luce che ha la proprietà di trasmutare e dissolvere il karma negativo e le disarmonie riportando istantaneamente gli elettroni della materia a cui viene applicata alla loro divina perfezione pensate che il raggio violetto viene utilizzato anche nelle terapie mediche per disinfettare tutti quelli che sono gli strumenti che vengono utilizzati quindi famosi i famosi raggi ultravioletti che vengono utilizzati per disinfettare proprio perché questa frequenza della luce ha questa caratteristica di ripulire tutto riportare tutto alla perfezione originaria allora gay ballard riceve questi insegnamenti e che cosa fa inizia a trasmetterli crea e crea la scuola i am activity da cui parte proprio la dispensazione della nuova era da cui poi è arrivata nel tempo anche la metafisica quindi anche noi seguiamo gli insegnamenti che da lì in poi sono stati dati dal maestro san germain per la nuova era allora possiamo ricapitolare i doni del maestro san germain per questa nuova era dell'acquario queste grande conoscenze che ci ha dato per permetterci di accelerare la nostra evoluzione spirituale ed entrare velocemente nella nuova era quindi creare questa nuova età dorata un'età che sarà contraddistinta dall'amore dalla fratellanza dall'armonia ma siamo noi a doverla creare possiamo farla solo trasformandoci trasformandoci applicando gli insegnamenti del maestro possiamo riassumere gli insegnamenti più importanti pilastri dell'insegnamento del maestro in questi tre punti la fiamma violetta e la liberazione dal karma quindi l'utilizzare in modo consapevole la fiamma violetta per liberarci da tutto questo karma negativo che abbiamo accumulato poi la legge del perdono quindi imparare che dobbiamo perdonare quello che è stato il nostro passato le nostre scelte precedenti e quindi tagliare i legami tagliare quelle pesanti catene che ci legano al passato se vogliamo aprirci a un futuro radioso dobbiamo perdonare i nostri errori del passato perdonare gli errori degli altri e aprirci a una nuova realtà che noi stessi creeremo e l'altro punto molto importante l'altro pilastro del suo insegnamento è l'autocontrollo sui nostri pensieri sentimenti perché è molto importante per tutti noi imparare a controllare i nostri pensieri i nostri sentimenti per mantenerli sul positivo perché il maestro ci ha insegnato come noi siamo gli artefici della nostra realtà e creiamo la nostra realtà con il pensiero il sentimento allora è importante che ci manteniamo sempre in armonia se vogliamo creare intorno a noi una vita armoniosa questi tre sono i pilastri della dell'insegnamento metafisico che condividiamo nei nostri corsi settimanali allora adesso che abbiamo visto eh chi è il maestro chi è stato come è avvenuta la sua incoronazione e quali quali grandi insegnamenti ci ha portato per la nostra evoluzione eh adesso che sappiamo quanto fortunati siamo ad essere qui a parlare del maestro ad essere ad aver promesso in quella incoronazione di essere al suo fianco facciamo insieme una profonda e potente invocazione al maestro quindi gli chiediamo di essere vicino a noi di aiutarci a portare i suoi doni nella nostra vita poi facciamo una breve visualizzazione una meditazione guidata in cui entriamo in contatto con la sua energia e concludiamo invocando la fiamma violetta della trasmutazione e quindi con queste bellissime pratiche onoriamo e celebriamo questa importante eh questo importante avvenimento mettetevi tutti in una posizione comoda facciamo tutti un bel respiro e ora tutti insieme pronunciamo questa invocazione a voce alta come un'unica voce seguendo il mio ritmo un bel respiro e diciamo amato maestro Saint Germain nel nome della fiamma divina che arde nei nostri cuori ti chiediamo di camminare attraverso di noi ti chiediamo di far sì che ognuno di noi faccia le tue veci qui nel mondo della forma non per la vana gloria del nostro ego bensì per irradiare la luce della nuova era a tutte le persone che ci contattano fisicamente etericamente emozionalmente e mentalmente ovunque andiamo che possiamo lasciare un'impronta di luce della nuova era che essa possa instaurarsi rapidamente nel cuore di tutta l'umanità e che questo pianeta diventi rapidamente la santa stella della libertà rinnoviamo i nostri voti di servizio a te maestro ti chiediamo di utilizzarci come emissari del fuoco sacro delle virtù divine del perdono della misericordia e della liberazione ti chiediamo di intensificare la tua assistenza attraverso di noi moltiplicandola in accordo alla legge cosmica chiediamo che la fiamma violetta purifichi i nostri veicoli per diventare puri strumenti della luce chiediamo una dispensazione una grazia se c'è ancora del karma negativo nella nostra corrente di vita che che venga dissolto trasmutato ed equilibrato con il nostro servizio all'umanità e a questo pianeta ripetiamola ancora ho amato maestro san germen cammina attraverso di noi ho amato maestro san germen cammina attraverso di noi ora chiudiamo gli occhi facciamo un bel respiro profondo ci focalizziamo sul nostro sole interiore visualizziamo il nostro sole nel petto con la triplice fiamma cristica e ora visualizziamo davanti a noi l'amato maestro san germen che appare con un bellissimo alone violetto brillante lo vediamo davanti a noi sentiamo la sua energia che ci avvolge un'energia di amore e ora il maestro pone la sua mano destra sulla nostra testa con il pollice sul nostro terzo occhio inizia ad irradiare tutta la nostra testa il nostro cervello con la sua energia nella fiamma violetta lasciamo entrare dentro di noi questa fortissima energia questa energia di profondo amore di perdono di liberazione di misericordia lasciamo che entri in noi ci diamo il permesso di accoglierla e sentiamo come questa energia dalla testa scenda in tutto il corpo portando una sensazione di profonda armonia di pace di amore sentiamo questo amore che fluisce in noi e ora il maestro mette la sua mano sinistra sul nostro cuore e va ad attivare il nostro Cristo interiore la nostra parte divina va ad attivare il nostro collegamento con la nostra divinità la nostra divina presenza io sono accogliamo questa energia questo grande dono questo grande amore che attiva la nostra energia la stiamo attivando con consapevolezza lasciamo agire il maestro lasciamo che ci doni l'energia che è giusta per noi e ora ripetete mentalmente dopo di me magna presenza io sono afferma e sostieni il tuo eterno dominio per aiutare ciascuno di noi ad intendere le tue meravigliose leggi che tutti noi ci manteniamo in perfetta armonia perfetta salute produci la tua perfezione in noi ora ti ringraziamo per la tua presenza avvolgente per il tuo potere protettore per la tua intelligenza e il tuo amore accogliamo dentro di noi tutta questa energia respiriamo profondamente lasciamo che il maestro sigilli in noi la sua energia ringraziamo il maestro per questa potente energia gli chiediamo di continuare a camminare in mezzo a noi anche nei prossimi giorni affinché possiamo essere uno strumento della sua luce della sua missione divina che noi possiamo portare ovunque andiamo un'impronta energetica del maestro del maestro San Germain ora facciamo un bel respiro profondo ritorniamo qui e ora riapriamo gli occhi e ci prepariamo per fare insieme un'invocazione conclusiva al fuoco violetto il fuoco violetto dell'amato un maestro San Germain facciamo un bel respiro e tutti insieme come un'unica voce a voce alta diciamo amato maestro San Germain esempio divino della liberazione spirituale per la nostra terra ti amiamo sigillaci 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 e sigilla i dieci miliardi di correnti di vita che si evolvono sulla terra in un potente pilastro del tuo fuoco violetto dell'amore e della liberazione copri la terra e la sua atmosfera con la fiamma violetta trasmutatrice in modo che ogni parte della vita possa muoversi vivere respirare e avere il suo essere in questo fuoco violetto del tuo amore che lo libera libera la terra e ogni cosa vivente in questo preciso momento poiché il fuoco violetto dell'amore e della liberazione manifesta sempre purezza liberazione e perfezione e io sono questo fuoco violetto e io sono questo fuoco violetto e io sono questo fuoco violetto grazie padre e madre c'è un bel respiro chiudiamo un attimo gli occhi ci visualizziamo avvolti da una grande fiamma violetta e ora visualizziamo davanti a noi il sole guardiamo la terra come se la stessimo guardando dal cielo dal sole visualizziamo un bel raggio violetto che esce che esce dal sole raggiunge la nostra amata terra la avvolge in una grandissima luce violetta e chiediamo a tutti gli angeli del fuoco violetto di avvolgere la nostra amata terra e di continuare a irradiare la potente fiamma violetta della trasmutazione affinché tutte le disarmonie le energie disarmoniche create dall'umanità possono essere trasmutate consumate dissolte e riqualificate in amore divino e divina perfezione grazie padre e madre perché così è guardiamo ancora la nostra terra avvolta da questa bellissima fiamma violetta e ora facciamo un bel respiro profondo e riapriamo i nostri occhi bene grazie di aver trascorso questa bellissima serata insieme a me grazie per la vostra energia abbiamo sprigionato una bellissima energia abbiamo potuto sentire l'energia del maestro quindi non l'abbiamo solo conosciuto ma siamo entrati direttamente in contatto con la sua energia e quindi nei prossimi giorni saremo dei messaggeri della della sua energia della fiamma violetta e della nuova era e ricordiamoci sempre che siamo qua per questo siamo qua per portare per creare sulla terra la nuova età dorata l'età dorata del maestro Saint Germain l'età della liberazione spirituale che potremmo realizzare solo trasformando noi stessi perché noi siamo gli artifici della nostra realtà e quello che vediamo fuori lo abbiamo creato noi allora se vogliamo una realtà migliore noi dobbiamo diventare migliori dobbiamo fare un lavoro di alchimia interiore andare a trasmutare il piombo in oro quindi liberarci di tutta la nostra parte ombra e farla splendere portare luce dentro di noi questo è quello che facciamo nei percorsi di insegnamento di metafisica quindi vi invito tutti a partecipare se ancora non lo state facendo partecipare ai corsi online che si svolgono tutte le settimane corsi base avanzati in cui impariamo gli insegnamenti dei maestri ascesi e non solo li impariamo ma li applichiamo quindi impariamo ad applicarli perché gli insegnamenti dei maestri sono molto pratici e ci danno degli strumenti che possiamo mettere in pratica ogni giorno nella nostra vita per trasformarci e più noi ci trasformiamo e più la vita intorno a noi cambia più la proiezione della realtà intorno a noi cambia questo è quello che facciamo come studenti di metafisica e quindi vi invito tutti ai corsi per saperne di più sui corsi andate sul mio sito web lauralberici.it e andate a vedere quali sono i prossimi corsi che si svolgeranno a cui vi potete iscrivere io vi mando un grande bacio e vi aspetto ai prossimi incontri ciao 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 Grazie a tutti.